Dopodiché il MES, collega Scerra, collega De Luca, diversi interventi. Guardate, io su questo ribadisco quanto ho detto finora, la questione a mio avviso va affrontata avendo chiaro l'intero quadro d'insieme. Penso che chi, anche tra coloro che sono favorevoli alla ratifica, all'utilizzo addirittura da parte dell'Italia del MES, non sarà mai questa la mia posizione, propone oggi al Parlamento di ratificare la riforma del trattato, in realtà non sta facendo in questo contesto un favore all'Italia. Io continuo a ritenere che il mandato ricevuto dal Parlamento a non aprire questa questione prima della definizione delle regole della governance sia l'approccio corretto e in ogni caso intendo seguire la volontà del Parlamento. E voglio dirlo per dire che se lo avessero fatto anche i nostri predecessori, noi non ci troveremmo in questa situazione. Perché vedete, ieri leggevo un'intervista al segretario del Partito Democratico, El Nischlein, che diceva che stiamo bloccando tutta l'Europa sulla modifica del trattato, è una cosa che è stata detta anche in quest'Aula. Chiaramente, attenzione, questo non vuol dire che oggi il MES non sia uno strumento ugualmente utilizzabile. Il MES è uno strumento che sta lì, può essere utilizzato all'occorrenza, quello che non si può utilizzare è il MES secondo le modifiche che sono previste dal trattato. Ma insomma, noi stiamo bloccando eventualmente il nuovo MES, non il MES come strumento in sé. Anche su questo è bene fare chiare. Non siate nervosi. Ho ascoltato con tranquillità, con silenzio. Spero che sappiate fare la stessa cosa, possiate fare la stessa cosa. Ci saranno le dichiarazioni di voto per rispondere e spero che qualcuno risponda. Perché? 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 Spero che qualcuno risponda perché? Dicevo, la lettura del segretario Schlein ha un elemento di verità. Della segretaria Schlein, della segretaria, scusate, chiedo scusa. Chiedo scusa, è corretto. La lettura della segretaria Schlein ha un fondo di verità. Perché sì, è vero, l'Italia si è impegnata sulla modifica del trattato, si è impegnata con altri 18 Paesi che partecipano al MES, gli altri 18 Paesi, poi quell'impegno deve passare nei Parlamenti, gli altri 18 Paesi sono passati al Parlamento, hanno ratificato la modifica del trattato e noi questo passaggio parlamentare non lo abbiamo ancora fatto. E qui però, vedete, mentre leggevo questa intervista, mi si è accesa una lampadina. Cioè mi sono chiesta quando l'Italia ha detto sì alla modifica di questo trattato. Perché vedete, io ricordo che nel 2019 l'ultimo mandato parlamentare che sulla materia del MES c'è stato, prima di quello ricevuto da questo Governo con questo Parlamento, nella scorsa legislatura ci fu un unico mandato parlamentare. E quel mandato parlamentare era del 2019 e impegnava l'allora Governo Conte a non ratificare la modifica del trattato, a non dare l'assenso alla modifica del trattato. Dopodiché ricordo anche una memorabile conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di quelle convocate durante la pandemia a Redi Unificate per far scoprire agli italiani quali erano i loro diritti. E ricordo che il Presidente Conte in quella occasione a chi lo accusava di aver dato l'assenso italiano rispondeva orgoglioso che questo Governo non lavora con il favore delle tenebre. Noi guardiamo in faccia gli italiani. Bellissimo, devo dire che fu molto molto efficace. E il Presidente Conte in quell'occasione ribadiva di questo tema parleremo con il Parlamento. E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano a una ratifica a livello di Governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura difficile, ci mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti. Questo è molto interessante. Lo ha fatto... No, no, però vi prego di darmi 30 secondi perché è interessante per gli italiani che ci ascoltano. Lo ha fatto il Governo Conte, lo ha fatto senza mandato parlamentare e lo ha fatto, udite udite, un giorno dopo essersi dimesso, quando era in carica solamente per gli affari correnti dando mandato a un ambasciatore, mandato firmato dall'allora Ministro degli Esteri del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre. Sì, con il favore delle tenebre. E allora forse è oggi che bisogna guardare in faccia gli italiani e spiegargli come sono andate le cose. Grazie.